facendo oggi certo sempre più affare ho fatto tutti i video nel mio canale in due secondi vorrei fare ancora gameplay però non è che sarebbe bello alle 10 e 9 10 10 ormai fare altri gameplay cioè non so cosa fare io posso spostare la telecamera tipo qua su un occhio qua sull'altro diventa una bocca posso aspetta è possibile allargare tantissimo qua c'è guarda diventa una videochiamata no non c'è più però non c'è più ragazzi c'è tutto lo schermo non so perché qua non funziona molto bene però rimettiamoci cosa c'è qua impostazione posso cambiarlo a cerchio allora siccome è voi è meglio così o così ci sta così ragazzi c'è decidete questo o questo 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 io decido questo mi piace di più preferibilmente mi piace di più e sul pre giochi vediamo che giochi abbiamo non voglio vedere se funziona veramente adesso diventa schema buio attenzione joystick non esiste mi piace di più aiuto perché non c'è luce allora fammi entrare si bug i si bug i si bug sono o blu defend aiuto sto laggando tutto scriviti 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 intanto mettetemi nell'angolo spaspa funziona così mi sa di no vabbè accontentiamoci di così non c'è la nostra postazione da gameplay non c'è la nostra postazione da gameplay andata che ma un po dove si ma alta si ma cosa resta qua si ma gameplay di alta qualità direi di andare tipo di qua e mettermi su la spari lo space si ma sta cosa magari un po' più piccola che io non voglio avere problemi perfetto perfetto no l'ho tolto ragazzi aspetta 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 aspettate un attimo ehm dove hai dove hai strumenti 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 acquisisci faccio eccomi eccoci nello spazio bene postiamo alla mia fotocamera 何 ecc più piccola no c'è chi sarebbe più lei come si fa impicciolire cosa questo perché tutto buio e nero posso girarla ma non mi interessa niente girata come si fa impicciolire impicciolisce così si gradisce così semplice non va più di così certo non ero e di farlo cerchio bene raga sono qua il buio più totale non so se ci sarà molto se mi cade pure ragazzo togliamo sto fotocamera ci sono niente togliamoci dalla postazione sono solo in video vediamo sono real news una fake news un cactus si sta laggando un sacco ok io ci metto un melone e il melone e l'anguia è una cosa c'è la cosa volete fare per una scatola e buttare la sua un cactus comunque dobbiamo essere anche una famiglia di friendly non voglio essere proprio bannato da youtube quindi è sparito c'è mettiamo il nano contro di marchi ovviamente il nano perché guarda la moscia del nano da noi da un calcio da noi quanto pesa sto danno si vuole molto bene cosa ho visto cadere io sono solo il tuo guagliore poi sono una gamba perfetto uno con una gamba come cammino ci vediamo come cammino molto molto avanti ma prossimo indietro da quanto non va bene diciamo che tipo stop io dico sapete utilizzare queste cose bene avete mai fatto questo sento un gatto ho per caso sentito un gatto c'è guardate io faccio qua tutto così faccio free door free no flip free benissimo ma dai joystick lo togliamo e ci mettiamo qualcos'altro perfetto siamo tutti qua riuniti a fare gli impariti bene un po più in su direi di mettere la leva e via bene adesso direte cosa fai ovviamente mettere una persona mettere un un coso che infilterà la persona c'è tipo qua sopra sto coso ed è capito che capito lascia like chi non ha capito lascia like chi ha capito lascia like che ha capito lascia iscrive chi non ha capito lascia like quindi frizz perfettissimo bene adesso mi sa che avete capito adesso funziona non funziona mi sembra ovvio no ma non funziona è fina mi sembra ovvio no non funziona spiace 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 pristichai fai tutto 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 andiamo per freddo giusto ci sta oh va bene Grazie. non la presa tagliato bene come hai decapito una persona come anche farli fare i backflip bene ma che ma che Grazie a tutti. 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 Io vi saluto.